Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco con l'ausilio di un autogru e i sanitari del 118, ma per Michele Di Meo, 37 anni, e sua figlia Suami, di appena 4, non c'era già più nulla da fare. E il bilancio della tragedia verificatasi questa mattina verso le 9.30 sulla statale 673 a pochi chilometri dal centro abitato di Foggia. La famiglia originaria di Orta Nova viaggiava a bordo di una Jeep Chrysler quando la loro auto sarebbe uscita improvvisamente fuori strada forse a causa dell'asfalto risoviscido dalla pioggia abbattente, finendo la sua corsa in verticale contro una recinzione privata. La mamma della bambina, 32 anni, moglie di Michele Di Meo, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo e ora si trova ricoverata in condizioni gravi all'ospedale Riuniti di Foggia. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. I soccorritori hanno fatto il possibile per aiutare padre e figlia incastrati nelle lamiere, ma i due familiari erano morti sul colpo.